Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.RadioRomaLibera.org Tu scendi dalle stelle, oh re del cielo, e vieni una grotta al freddo, al gelo, oh bambino mio divino, io ti vedo qui tremar, oh Dio beato, e quanto ti costò l'avermi amato. E questo senza dubbio, cari bambini, l'ino di Natale più conosciuto in Italia, almeno, questo ino che poi è una poesia di Sant'Alfonso Maria di Liguori. E oggi vogliamo occuparci di questo bel canto in onore della nascita di Cristo. E noi vediamo come Sant'Alfonso in una poesia riassume tutto il dramma della nascita di Cristo, la sua umiliazione, nostro Signore che scende, scende, Dio scende dalle stelle, scende dal seno del Padre e il re del cielo e della terra che viene a nascere, viene a nascere in una grotta al freddo, al gelo. E contempliamo Gesù che tremme. Perché nostro Signore è, perché nostro Signore è sceso dalla gloria degli angeli e è nato in una grotta al freddo e al gelo? Ah, Sant'Alfonso lo dichiara, per amore. Tutto questo è il prezzo che Gesù ha voluto pagare per l'amore che ha per ciascuno di noi. A te, che sei del mondo il Creatore, mancano pani e fuoco, oh mio Signore. Caro e letto pargoletto, quanto questa povertà più mi innamora, già che ti feci amor povero ancora. Allora è l'amore di nostro Signore che l'ha fatto nascere povero, perché Gesù, spogliandosi di tutto, dalla sua gloria, dalla sua grandezza, questo atto è frutto del suo amore. Più povero Gesù nasce, più manifesta la sua carità, il suo amore. A nostro Signore mancano tutte le cose, mancano pani. Nostro Signore è stato avvolto in fasce, manca il fuoco, perché è nato in una grotta fredda. E tutto questo è l'amore. Tu, che godi il gioir nel divin seno, come vieni a penar su questo fieno, dolce amor del mio cuore, dove amor ti trasportò. Nosso Signore, che gode della gloria del Padre nel seno della Trinità, della Trinità, ha preso la nostra umanità, si è fatto uomo per soffrire. E tutto questo è il suo amore, è la sua carità. Ma se fu tuo volere il tuo patire, perché vuoi piangere poi? Perché va agire? Se tu sei venuto a soffrire, adesso perché piangi? Sposo mio, amato mio, mio Gesù, ti intendo sì. Ah, mio Signore, tu piangi non per duol, ma per amore. Tu piangi per vederti da me ingratto, dopo sì grande amore, sì poco amato. Nostro Signore non piange dunque per il dolore, ma piange d'amore. Nostro Signore piange a causa della nostra ingratitudine, perché ancora, dopo che si è fatto uomo, che è nato povero in una grotta, ancora non riesce a convincerci del suo amore, e ancora non crediamo fino in fondo che Dio è amore, che Dio è carità, che il nostro Signore solo vuole il nostro bene, e ancora nel nostro cuore c'è la diffidenza nel confronto di Dio. Quel maledetto peccato originale che ha messo nel nostro cuore la diffidenza verso Dio, stato i serpenti che ha messo nel cuore di Eva la diffidenza, ah, in fondo, in fondo Dio non è amico vostro, in fondo Dio non vuole la vostra felicità. E quel male, quel veleno del peccato originale, quella diffidenza verso Dio, è ancora nel nostro cuore. Gesù viene a betreme, nasce povero, nasce solo per amore, e ancora noi facciamo fatica a credere, e facciamo fatica ad abbandonarci, a fidarci di nostro Signore. O di letto, tu piangi per vederti da me ingrato, dopo sì grande amor, sì poco amato. O di letto del mio petto, se già un tempo fu così, or te sol bramo. Caro, non piangere più, che io t'amo, io t'amo. Quindi è l'anima, è l'anima che vuole cambiare, non vuole più essere ingrata, è stata ingrata tante volte nel passato, ma noi adesso vogliamo cambiare, vogliamo amare Gesù, vogliamo amare Gesù. E questo deve essere il proponimento di questo Natale. Io, da questo Natale in poi, voglio amare di più Gesù, la sua sacra infanzia. Tu dormi, oh nino mio, ma intanto il cuor non dormi, no, ma veglia tutte l'ore. De mio bello e pur agnello, a che pensi? Dimmi tu. Gesù può anche dormire, perché è stanco, ma il suo cuore, il suo cuore non dorme mai. Gesù, Gesù non dorme, Gesù veglia tutte le ore. E quindi, ah, Gesù, a cosa pensi? Per esempio, in questo momento nel tabernacolo, dove tu vegli, dove tu non dormi mai, a cosa, a che pensi? Dimmi tu. Anche voi, bambini, chiedete a Gesù, Gesù, a che pensi? Dimmi tu. Oh amore immenso, a morire per te, risponde, io penso. Gesù, a che pensi? Dimmi tu. Oh amore immenso, a morire per te, risponde, io penso. Gesù pensa a che cosa? Gesù bambino, adagiato sulla palia, pensa a morire per me. In Spagna, si rappresenta molte volte, Gesù bambino, già abbracciato alla sua croce. Anzi, qualche volta, Gesù è adagiato sopra, Gesù è adagiato sopra la croce. Già a Betlemme c'è la croce di Cristo. Dunque, a morire per me, tu pensi, oh Dio, e chi altro amar fuori di te posso io? se tu, signore, sei nato così piccolo, così povero per me, e tu pensi a me ancora quando io non c'ero, e tu già pensavi a me, e già pensavi a morire per me, io, signore, che cosa, che persona posso amare fuori di te? non posso amare nessuno, sarebbe una ingratitudine terribile, non posso, devo amare solo te, e voglio amare solo te. E allora, Sant'Alfonso ci fa concludere questo, questo canto, che è una preghiera, con una invocazione alla Madonna, perché nostra Signora è il gran segreto di Dio, senza la Madonna non c'è Gesù, e senza la Madonna non potremo mai, 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 mai piacere Gesù. Perciò, se vogliamo sempre trovare Gesù, se vogliamo amare Gesù, dobbiamo chiedere sempre l'aiuto, la protezione, l'amore della Santissima Vergine. Oh Maria, speranza mia, se io poco amo il tuo Gesù, non ti sdegnare, amalo tu per me, se io non so amare. Oh Maria, cuore immaculato di Maria, ama Gesù per me, perché io sono così piccolo, sono così miserabile, che non posso amare abbastanza Gesù. Così sia. Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più, è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. qui Grazie a tutti.